Allora, conoscete tutti quanti il mio amore per Joshua Zirze, attaccante del Bologna che sta trascinando la squadra emiliana in zona Champions, giocatore bello da vedere, magari non sarà il bomber da 20-25 gol che ti lotta per la classifica cannonieri, ma è un calciatore di una tecnica incredibile, di un'intelligenza tattica incredibile che ti fa giocare bene la squadra, che viene, prende la palla, gioca con la squadra, quindi ti fa giocare meglio e magari manda in gol. Anche i compagni perché è davvero anche un assist man, niente male, riesce a imbucare la palla dove vuole con la sua tecnica incredibile, quindi è un giocatore che soltanto immaginarlo con la maglia del Milan mi fa emozionare e mi fa aggasare. Però ragazzi, la notizia della gazzetta di stamattina è che Zirze dice sì al Milan, quindi non vuole andare al Bayern Monaco, rifiuta il Bayern Monaco, anche se il Bayern Monaco ha tutto il diritto di poter riscattare il calciatore, quindi decide il Bayern Monaco, che ricordiamo è una clausola di 40 milioni per riprendersi Zirze. Però ovviamente Zirze in Germania non vuole andare perché quelli giocano con Henry Kane e quindi tante possibilità di giocare non le avrebbe, quindi vorrebbe rimanere in Italia. E la squadra che gli dà più garanzie di un posto da titolare è il Milan perché il Milan non sarebbe titolare di più, mentre invece nelle altre squadre dovrebbe giocarsi il posto. E quindi sembrerebbe aver detto sì al Milan. Poi si parla delle cifre e ragazzi si arriva a delle cifre spropositate che secondo me il Milan può arrivarci soltanto con la cessione di un big. E adesso ci arriviamo anche a questo perché questo mi fa davvero una paura tremenda perché il Milan in questo momento non può permettersi, se non vuole un altro anno in cui vede gli altri festeggiare ed esultare, vendere un big. Perché siamo già troppo lontani dall'Inter che in questo momento è la squadra stra più forte del campionato che ci dà quanti? 14 punti. Probabilmente non ci sono 14 punti tra Milan e Inter con meno 877 infortuni da parte del Milan, magari qualche partita in cui è stata gestita male dall'allenatore, qualcosina in più si poteva risucchiare. Ma sicuramente l'Inter è la squadra più forte del campionato, è davanti a noi, è un bel po' davanti a noi e già si sta rinforzando per la prossima stagione. Non è che si sta perdendo in chiacchiere, già stanno andando a prendere dei parametri zero interessanti, Zilischi, Taremi, poi andrà a prendere anche degli altri giocatori. Ho sentito Gudmundson, quello del Genoa, che è un altro giocatore che a me fa impazzire come Zirzea, che è vicinissimo all'Inter. Quindi diciamo che l'Inter ha già un gap importante, in più si sta anche rinforzando. E il Milan dovrebbe rinforzare la squadra prendendo dei big, non lo puoi fare, non lo puoi fare. Vendi dei giocatori che in questo momento magari hanno un buon mercato e puoi andare a sostituire. Ma i big del Milan, che sono tre ragazzi, e sono Magnan, Teo Hernandez e Leao, tu non li puoi toccare perché sono lo scheletro della squadra. Non puoi toccarli. Anzi, devi sperare che l'anno prossimo facciano ancora meglio di quanto stanno facendo adesso. Perché mi posso garantire che Magnan, con tutti gli infortuni e tutte le robe, può fare di più nel Milan. Teo Hernandez è uno di quelli che ha un ottimo rendimento, ma secondo me può fare ancora di più. Specialmente in Serie A, a volte lo vedi che si smarrisce nelle partite, ma quello può veramente cambiarti il campionato. E Leao, vabbè, è inutile anche discuterne. La sua incostanza nelle partite è assurda, è disumana. Cioè Leao può prenderti la partita, te la può vincere da solo in dieci minuti e poi può sparire dal campo per ottanta minuti. E questa è una roba che deve cambiare. Quindi i nostri tre big non solo devono rimanere, ma devono anche dare di più. E in più la squadra deve essere migliorata, perché sennò altrimenti non ha senso partecipare. Cioè io non voglio partecipare giusto per partecipare il campionato. Quest'anno per me è uno dei campionati più brutti e senza motivazioni della storia. Da quando seguo il Milan, cioè sta roba di stare lì nella terra di nessuno, mi ha dato veramente un'apatia verso le partite assurde. Cioè io seguo il Milan soltanto perché amo i colori di quella maglia, ma davvero quest'anno non le guarderei neanche le partite. Ringrazio davvero l'Europa League che ci sta dando un po' di emozione. Che va bene, adesso abbiamo incontrato gli scarti degli scarti e va bene. E comunque avevamo paura anche degli scarti degli scarti. Ma adesso si fa, si fa sul serio e dai quarti di finale ci sono squadre serie, Roma, Leverkusen, Liverpool per vincere l'Europa League. Ragazzi sarà una missione impossibile, ma almeno ci dà uno scopo in questa stagione. Quindi l'anno prossimo se vogliamo avere uno scopo è lottarcela con l'Inter, che spero non farà un altro campionato come questo, che le sta vincendo praticamente tutte, però c'è la possibilità, tu l'anno prossimo devi essere pronto e andare a prendere un giocatore come Zirze, che ragazzi si parla di 50 milioni di euro più il cartellino di Salme Kers che ne vale almeno 10. Quindi tu stai andando a pagare 60 milioni di euro un attaccante che ripeto, io sono innamorato di Zirze e quindi ne parlerò sempre bene. Però poi se guardo gli scettici mi dicono, sì questa ha fatto una stagione buona al Bologna, non è che puoi andare a spendere 60 milioni di euro quando neanche ce li hai. Quindi questi 60 milioni di euro non vorrei che in questo momento venissero presi dalla cessione magari di Magnan o magari di Theo Hernandez, perché ho sentito pure dire Moncada è volato a Monaco di Baviera per parlare con il Bayern Monaco per sapere se riscatteranno o non riscatteranno Zirze. Ora mi devi spiegare perché il Bayern Monaco dovrebbe risponderti a te se deve riscattare o non deve riscattarti Zirze. Dico fatti i cazzi tuoi, decideremo, no? Vedremo magari le offerte. Se lo devono riscattare a 40 e lo possono già girare a un'altra squadra a 50-60 milioni di euro, perché non farlo? Cioè mica sono scemi, ok che stanno bene con i soldi, ma non è che sono scemi. Oppure la cosa che mi è venuta più in mente, è detto quella più sensata, e non è che stanno andando al Bayern Monaco per dire eh magari si parla di qualche nostro giocatore, perché il Bayern Monaco è interessato a Theo Hernandez, è interessato soprattutto a Magnan che è un calciatore che secondo me è quello più nel mirino della cessione, è quello che si parla di meno del rinnovo è quello che si è messo un punto interrogativo un po' più grande sul rinnovo. Ogni giorno ne leggo una diversa sul rinnovo di Magnan e credo potrebbe essere proprio lui il sacrificato e andare a perdere un portiere importante per poi andare a fare un'altra scommessa e se vai a sbagliare il portiere hai segato la stagione, se con l'attaccante puoi rimediare perché Pulisic ti va in doppia cifra, Leao ti va in doppia cifra, i centrocampisti segnano, la puoi rimediare. Se sbagli il portiere sei completamente fregato, la stagione è andata nel cesso. Quindi il portiere è un ruolo che viene spesso sottovalutato, ma trovare un grande portiere e diciamo che noi siamo stati anche fortunati perché l'abbiamo perso un grande portiere che è andato al Paris Saint-Germain e abbiamo trovato un altro che secondo me è anche meglio quindi diciamo da quel punto di vista c'è andata bene. Vogliamo sfidare di nuovo la sorte cercando di andare a perdere questo e prenderne un altro? Boh, non lo so, io onestamente eviterei. Però questo viaggio a Monaco di Baviera di Moncada mi puzza un po' di... Andiamo a parlare del nostro Magnan di turno. Voi avete, se riscattate Zizze, possiamo mettere Magnan nell'operazione. Io ho pensato questo, non ho pensato e Milan stanno andando a chiedere se voi vi inserite per Zizze così noi possiamo andare a fare la trattativa da 60 milioni di euro poi. Perché io, il Milan che spende 50 milioni di euro più il cartiereo di San Mekersi per comprare un singolo giocatore senza vendere nessuno, onestamente non ce lo vedo. Ed è il motivo per cui io non stimo questa società, è il motivo per cui io spero sempre che venga cambiata la notizia migliore non è vincere l'Europa League, partecipare alla Champions, è cambiare la società e prendere gente che vuole vincere davvero. Non a chiacchiere come Jerry Cardinale che vuole vincere la Champions League. Come la vinci se non comandi manco a casa 2 in Italia? Cioè tu dovresti avere una squadra in Italia che domina per poter sperare di lottare contro i mostri sacri della Champions League. Cioè l'anno prossimo il Real Madrid si prende Bappé, c'ha Vinicius. Ma dove vuoi lottare tu? Ma seriamente vuoi lottare per la Champions League? Cioè, capito? Questi parlano ma non sanno neanche di che cosa parlano, sa neanche che cos'è la Champions League cardinale. Non conosce nulla, non conosce neanche le squadre avversarie probabilmente. Perché come fai a dire una squadra che in campionato è dietro l'Inter, che è lontano anni luce da quelle squadre? Tu sei lontano anni luce in questo momento dall'Inter a poter pensare di poter fare qualcosa. Pensa prima a dominare in Italia, pensa prima almeno a pareggiare il conto con l'Inter. Che non è che stiamo dicendo che è impossibile, è l'Inter. Cioè, è una squadra creata dalla bravura di Marotta, prendendo dei parametri zero. Acerbi, Darmian, cioè questi hanno fatto diventare titolarissimi sta gente. Non credo sia così impossibile colmare questo gap. Ma se te mi parli di prendere Zig Zee e perdere Magnan, allora siamo punto di partenza. Non cambia nulla. Non ci siamo migliorati, non stiamo andando avanti. Anzi, rischiamo anche di andare indietro perché perde un giocatore che nel Milan sai già che è fortissimo e ci può stare, prendendo in un altro. Che comunque il Zig Zee è una scommessa. Dite quello che volete. Ma quando dicono ha fatto una stagione buona in Serie A, è vero. Poi, ripeto, io sono di parte. Sono innamorato di Zig Zee e pagherei 60 milioni di tasca mia se ce ne avessi. Però stiamo parlando sempre di scommesse. Non stiamo parlando di Lewandowski, di gente, Henry Kane, gente che viene e sai già che gli fa 30 gol a stagione. Stiamo parlando di una scommessa che per me sarebbe bellissimo da vedere nel Milan con Pulisic, Leao. Alla fine uno mi può dire, ah, non fa 20-25 gol. Sì, ma faranno gol anche gli altri. Abbiamo un attacco che magari possono andare in doppia cifra tutti e tre. Roba che non è che tutte le squadre hanno. E in più potresti giocare bene al calcio. Quindi, ripeto, per me Zig Zee è un grandissimo sì. Però se c'è la possibilità di cedere un big, alla fine non andiamo avanti. Non miglioriamo niente e non colmiamo il gap con l'Inter. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Zig Zee. Se secondo voi il viaggio di Moncada, quali sono le vere intenzioni del Milan e soprattutto le vere intenzioni del Bayern Monaco, che secondo me, a casa Milan qualcosa, ce la vuole chiedere.